Sì, sono Paolo Sandri con ST Microelectronics e oggi parlerò di l'efficienza di potenza per i datacenters. ST offre molte soluzioni per rispondere l'efficienza e la densità di potenza per i datacenters. E oggi vi mostrerò un esempio di come possiamo convertire il 54 volt fino al 1.8, maximizzando l'efficienza e la densità di potenza della soluzione. La soluzione che vi mostrerò è una soluzione due stagioni, dove la prima stagione è una topologia ST che abbiamo inventato e si chiama HSTC, un convertecente di tante di hybrido e implementa una risposta di convertecente di 5 a 1, fino a 700 Watt. Converte la input 54 volt fino a 10.8 volt per creare un basso intermedio per la distribuzione di potenza. Le caratteristiche principali di questa topologia sono, prima, l'efficienza alta efficienza, con una curva di efficienza flat, arriviamo una piccola di 98.2% e, a 700 Watt, arriviamo 97% di efficienza. Quindi, l'efficienza extremamente alta con una curva flat, che è molto importante. Il secondo importante aspecto è la densità di potenza, perché utilizza un trasformer e possiamo portare a 300 Watt per l'inchio. E l'ultimo, ma non l'ultimo, è l'independenza di componenti di materiale dal rischio di convertecente. In altre parole, se vogliamo implementare un rischio di convertecente di 5 a 1, per esempio 6 a 1, o 10 a 1, il numero di componenti externi nella bomba è lo stesso, quindi questo permette di maximizzare la densità di potenza, perché manteniamo la minima quantità di componenti. Quindi, una grande topologia per la prima fase, un convertecente non regolato. La seconda fase è di prendere l'innovazione reale di potenza di potenza, dal 10.8 Volt all'intermediato di 10.8 Volt all'interno della CPU, dal 1.8 Volt. L'innovazione che abbiamo presentato qui è il T-LVR, la transinductante di potenza di potenza di potenza, dove sostituiamo per ogni delle 8 fasi della topologia multiphase, sostituiamo l'inductor con un trasformer 1 a 1.1. Per sostituire questo e collegare il strancio di potenza di potenza di potenza di potenza, in potenza di potenza di potenza drammatica la dinamica del sistema con una risposta molto alta di tranziore. Il effetto di questa risposta molto di più rapida, di potenza 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 Quindi, inoltre, seguendo la specifiche e la complianza alla CPU, ma al stesso tempo minimizzando la bilancio di materiale per una densità più alta. E, ovviamente, ma ultima, la velocità di potenza di potenza di potenza molto alta efficienza con un picco di 96%. Questo è un esempio di come il sistema resposte a a un transito più alto di 20 a 200 A, e puoi vedere che la risposta di transito del voltaggio di output è molto clean, è una ruota molto clean, quindi questo indica che il sistema è davvero molto veloce quando c'è un transito più alto. In additione alla converzione di potenza di TlVR per aiutare potenza alla CPU, abbiamo anche offerto una soluzione completa con due 60 A e-fuses a input che sono usati per la protezione e telemetria. Se siete interessati a ottenere più informazioni sulle soluzioni ST di potenza per il datacenteri, puoi andare al sito ST sotto l'applicazione e nella tabla di datacenteri. Grazie per la tua attenzione e per guardare questo video. Grazie per la visione!